A Pedalino manca l'acqua da alcuni giorni, con un'amministrazione comunale che stenta a garantire servizi essenziali. Era quanto aveva segnalato ieri l'onorevole Giorgio Assenza, fatto questo che ha subito messo in azione il PD con un controcomunicato. Tardivi, distratti e completamente disinformati. Sono questi gli oppositori che oggi pensano di trovare argomenti essenziali per dire che l'amministrazione Spataro non è in grado di gestire le emergenze. Una perdita subito riparata nella conduttura dell'ex basenato che aveva creato problemi nell'erogazione dell'acqua a Pedalino, ma a lunedì, con notevole ritardo, i consiglieri di PDL e Commiso Vera hanno lanciato un allarme e buon ultimo allo stesso Assenza. Lo giustifichiamo, continua dal PD, perché con tutti gli impegni che ha, arriva sempre tardi sulla notizia. Purtroppo non ci resta che concludere amaramente, ancora una volta in mancanza di argomenti seri, gli avversari politici hanno deciso di scegliere la via del sciacallaggio. Dal PD ricorda inoltre l'onorevole Assenza il luglio del 2008 con amministrazione da lui sostenuta e che lasciò interi quartieri cittadini senza una goccia d'acqua.